Siamo sempre organizzati dal Polar Furlan di Latina. Ci siamo lasciati pochi giorni fa per festeggiare il Natale con la Santa Lucia e oggi siamo di nuovo tutti quanti insieme. Questa Pasqua che cade così vicina e quindi ci permette di rivederci con questo breve tempo. Siamo sempre contentissimi noi, io, Vincenzo e Fabrizio, di suonare in vostra compagnia oggi e di suonare sempre per voi. Speriamo che ci sia più ballerina da quelli che abbiamo avuto in Santa Lucia. Speriamo che oggi ci rivolgiremo di più. Ok, noi facciamo anche un po' di compagnia nell'artesa dell'antipasto, di iniziare queste case. Se volete uno spazio c'è l'accanto potete venire a pagare, altrimenti ascoltatevi quando vuoi. Non dobbiamo rilassarmi, per favore. Ok, si parte allora. Ci facciamo una bella mazzucchetta, va, vediamo se concludo a scaldarsi. Anna, buongiorno. E adesso sono qua, centinaia. La mozzarella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.